Il capistrello targato Cannatelli parte bene in un match ostico e propone insidie sin dai primi frangenti, anche se l'avvio in realtà è molto tattico e per vedere la prima conclusione bisogna attendere il diciottesimo quando Antonio Di Girolamo dà la fascia pennella per l'argentino Matteo che calcia pulito ma il cuoio si alza e il Montorio tira un sospiro di sollievo. Il capovolgimento di fronte e Fantapuzzi per poco non fa la frittata se non che Marini non ha il killer instinto e Mario Di Girolamo non si deve neanche sporcare la divisa. Trentaduesimo occasionissima Montorio con Mario Di Girolamo imperfetto e Marini di nuovo troppo tenero per essere vero. Trentacinquesimo Di Francesco ha mangiato gli spinaci e si capisce da una bordata che calcia direttamente a casa sua e che non finisce nello specchio per centimetri. Ancora Montorio al trentanoesimo con Di Marcello al cross tagliato per la testa di Federico Mosca non abbastanza calibrata nell'occasione. Questo è quanto per un primo tempo più giallo-nero la ripresa muterà gli equilibri. Terzo Campos ricorda Fischetti quando pennella su tiro franco una traiettoria di poco alta. Quarto punizione ospite e Marini gira sul secondo palo ma il cuoio è impreciso e si perde in fondo al campo. Sesto batti e ribatti Capistrellano Mario Mosca di Pana la matassa ma la di Pana male. Quindicesimo pennella Edoardo De Meis non Mattea che cincisca e Guto si ritrova poi in fuorigioco per un'occasione sfumata. Ventesimo rapace di Marco nel rubare la sfera al limite del fallo ma poi si intestardisce con il pallone fra i piedi e l'azione evapora. Ventiduesimo match point Capistellano con Mattea che pesca Franchi tutto solo al diagonale leggerissimamente a lato. Quanto basta per salvare le vespe giallonere che però al trentacinquesimo si addormentano e la persona dell'estremo ospite che è gevole il neo entrato da costa. Chirurgico nel pallonetto vincente. Capistrello in scioltezza ma proprio in chiusura ai match sugli sviluppi in un tiro d'angolo Ricci in zucca sul primo palo e vede il legno respingere al mittente le sue ambizioni di gloria. Finisce qui e finisce bene per i Valentini Edmondo De Amicis invece si sente in sottofondo durante l'intervista di Walter Cannatelli ed era ancora negli spogliatoi. Il che è tutto dire.